Buonasera E' alzato pieno della forza Ah come è? Lo vengo o lo dico? Più sono i conti Non so che ho detto Ma 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 non so che ho detto Non so che ho detto Uno, due mesi Màssimo tre Comunque adesso Il mio titulatore è certo Idola sia creativista Così può passare lì In termini sia la sua vita Senza il suo figlio E' alcune Ma questo è il dottore La vita è fatta per queste cose Non c'è che la gente Non c'è che la gente Se vuole che il suo padre sia bello Non so che ho detto Ma perché è il dottore Non è stato come scrivere il dottore Scusate che sono Non riuscite che ci sono Allora Va bene Allora Il sottoscritto Dottor Gennarino Burgoni C'è visto che il signor Corino Corino Tacca 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 Si affetta Dacatiomegalia Ipertensiva Con un alto Tasso di colosseuro Spasmo Dello sterno Fredio Mastroido Diziere Qui dell'altrezza Aético Mi senti di colosseuro Atleta Artleta Diziere La Cassicata Vosce di colativo Colosseuro อi ั e sapuglia prego prego devo continuare devo continuare come ci fa dire io non ti chiedi proprio non è che freddo 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 è che freddo ma tutto sicuro non c'è niente non c'è niente ma tutti non è buono non è durezza non è io non è a parte il fatto non si chiama un profiratico ma si chiama un profiratico ma voi allora, se questo è malattito, ho elencato, si tratta di una semplici e cinquenta questo è stato tutto, ma tu è? ti dico per il lato di cosa cosa? va bene, non so mi hanno chiesto molto comunque, quello che adesso vi ho scritto, no? sta tutto sulla tua vicenda seguite attentamente la terapia, no? puoi, quest'anno non si sente cioè, la fevo, cambia bene, tutta la notte, senza soffire quindi, per l'anno fino al 6-7 gli cambiano il vivo e gli dà un endodeno ok? il endodeno è stata acuta va bene io ho completato dottor, mutati a passare non lo so, dottor no, allora non mi se la rete, dottor aspetta, ci mi chiedi allora, se è stato in casa vabbè, nel mio compresor c'è lungo, la fevo Gelasin leiEL Fiona se staudi testo l'abbiamo no sé dice no gli chiedi di queste cose non c'è sì beh non è buono non è buono è una garina non è buono non è buono non è buono non tu scusa se non pari con bai non tu bello io non metto a fare l'altro io ho la sua non tu e io non ho fatto il tuo bocino non metto quando la mia moglie è casa in casa non ho fatto non ho fatto ma come non ho fatto ma la mia moglie è come questa non è vero ma le ho fatto non hai ma non ma no Come posso comprare la foto? E' un acquistaggio nel portone? Pace un'acqua, sottotitola. Ci sono un'acciglia, non è generale, no? All'occhia? Ci sono stati sheepi di portone? Non ci sono molto più? Non! All'occhio non sapevo di potere, no? Non sapevo di potere Vinci è legato, no? Non sapevo di potere, non sapevo di potere All'occhio! All'occhio è venito? un po' altro po' altro po, non mi mamma becco oh, sciclo quanto a lui sullore servite dopo un po' di capire un giocatore un giocatore un giocatore un giocatore è una giocatore un giocatore? E' un po' un po'. Invece per me che dovevamo passare. «I' vera, queste sono tutte. Quando la regnavi non so di affrontare di partire. Non ne bevamo, piace un'amica, che ha aggiornato. C'è un consiglio che... quando la regnava? Non ne prenderà un piccolo... ma si stessi andando qui la vera è importante ma si stessi e tu stai ancora con qualcuno è ma lì pari d'altro che è di valore vanno a facendo vanno a usare e vanno a successare vanno a lì vai Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.